6 persone al giorno arrestate o denunciate carabinieri in prima linea nella difesa delle fasce deboli. 1937 persone arrestate e denunciate per maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale o per femminicidio dal 1 gennaio al 7 novembre. Una cella chiamata casa. È da questa immagine che i carabinieri di Napoli partono con l'obiettivo di smuovere le coscienze dei partenopè, soprattutto fornire una via di fuga a quelle donne che si sentono oppresse e vessate da un uomo che in realtà uomo non è. Alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno oscilato un bilancio dei risultati conseguiti nel contrasto alla più odiosa forma di reato. Con i numeri, anche un video per entrare virtualmente nelle case dei napoletani e, perché no, anche negli smartphone. Un messaggio dalla voce delle donne, in uniforme del comando provinciale di Napoli, che vuole sensibilizzare ma soprattutto convincere chi ha bisogno di aiuto a denunciare. Carabiniere, che vivono quotidianamente quell'insostenibile disagio delle numerose vittime che chiedono assistenza. Un invito dunque per quelle donne che vivono situazioni familiari difficili o che sono indecise e hanno paura di uscire da una storia a senso unico dal finale potenzialmente drammatico. Donne indivisa, che spesso si rivelano essere il primo solido appio a cui affidarsi per chiedere aiuto. La tipica uscita di sicurezza, rappresentata dalle carabiniere, che formano il primo anello di quella catena istituzionale, sempre pronta a intervenire con empatia e professionalità.